Sai ballare, cantare o recitare? Dell'Europa Network ti offre una grande opportunità Il protagonista sei tu Per partecipare telefona allo 0984 84 171 Allora Francesco divertitevi ragazzi Questa è una bella esibizione Come lascio concorrenti Due belli concorrenti tuosti Signori, Francesco un su da Taverna di Mondalto Dopo il padre mi chiama ogni giorno quando arriva E il papà è un van di Enzo Leonette Pensate che ne esce Sto scherzando Vai Leonette, vai Prima che ti vengono, vai Senzo buono, come se Vai Prendate se sei pronto Tu faccio arrivare la posa o tu faccio arrivare la posa Scherzo, vai Divertitevi Adesso vieni qui E chiudi dolcemente gli occhi tuoi Vedrai che la tristezza passerà E questo puoi passare E la domani Io star con te Io star con te Baccia del letto e labbra Dirti che In questo tempo dove tutto cambia Dove tutto passa Noi siamo ancora qua E non abbiamo bisogno di parole Per spiegare Per spiegare quello che nascosto in fondo al nostro cuore Ti solleverò Ti solleverò Tutte le volte che cadrai E raccogliere E raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai E seguire E seguire il tuo volo senza interferire mai Perché quello che vuoi Perché quello che vuoi è stare insieme a te Senza calde Senza calde Stai insieme a te Vieni più vicino E sciogli i tuoi capelli Amore mio Il sole ti accarezza Ti accarezzò anch'io E tu sei rosa e rossa Vieni più vicino Accendi questo fuoco Amore mio E bruceranno tutte le paure Adesso lasciati andare E non abbiamo bisogno di parole Per spiegare quello che nascosto in fondo al nostro cuore Ma ti solleverò Tutte le volte che cadrai E raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai E seguire il tuo volo senza interferire mai Perché quello che vuoi è stare insieme a te Senza catene Senza catene Stai insieme a te E non abbiamo bisogno di un remunco Ma ti sorreverò all' unnecessary E non lo faccio E con te perderai, e seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare sempre, senza poter, senza poter, senza poter abbiamo finito, mamma mia, bravo, bravo, bravo sai ballare, cantare o recitare? Tele Europa Network ti offre una grande opportunità il protagonista sei tu, per partecipare telefona allo 0984 84 171